paura non importa quanto sia stretta la porta quanto è piena di castighi la vita io sono il padrone del mio destino io sono il capitano della mia anima ma questo microfono è aperto un po' basso comunque è William William Emily William Emily è la poesia che si chiama Invictus da cui prende il nome insomma al disco e la cosa che a me mi ha colpito un sacco di sta poesia è che William Emily questo scrittore cioè uno che ne ha passati di ogni nella sua vita anzi c'è guarda un attimo su William Emily con la y finale e l'h iniziale intanto c'è Wikipedia H N E N E E N L I No L I con la L L E E Eccolo Invictus In Victus Ernest Esatto E' un Libraio Libraio Ne ha passato un po' di ogni di tutti cioè a 12 anni si ammalò gravemente di tubercolosi tubercolosi Ne ha fatti specie lui fu colpito dal morbo di pot che colpisce le ossa e quindi gli fu resa necessaria l'amputazione della parte inferiore della gamba sinistra per permettergli di sopravvivere e quindi praticamente la malattia non gli diede tregua per l'interesistenza ma lei era dotato di una forza d'animo fuori dal comune si diplomò nei successivi otto anni venne spesso ricoverato per lunghi periodi in ospedale in quanto anche il piede destro era a rischio di amputazione sempre per la tubercolosi esatto dopo tre anni passati in ospedale venne dimesso dopo essere stato curato da Josef Lister e sebbene la cura di Lister non fosse del tutto riuscita questa gli permise di vivere in modo autonomo per trent'anni nel 1875 mentre si trovava in ospedale scrisse la sua poesia più celebre Invictus prima di morire questo nel 75 e lui è morto poi nel è morto poco dopo anni dopo non immediatamente però la potenza di un uomo senza una gamba sul letto di un ospedale poi con le cure di una volta un uomo sul letto di ospedale senza un arto con un altro arto a rischio di amputazione che scrive io sono il padrone del mio destino io sono il capitano della mia anima cioè io ho letto questa cosa ho detto no non è possibile cioè parole più belle che io abbia mai sentito e e quindi è una forza interiore si esatto cioè capisci veramente la forza dell'uomo esatto esatto che appunto come dicevo prima no il volere è potere cioè la mia filosofia di vita è quella cioè che io sono il padrone del mio destino ma c'entra qualcosa col film no alla fine perché ho visto il film poco tempo fa nel film viene citata la poesia che scioccheria il film è bellissimo io l'ho conosciuta tramite il film no il film l'ho visto poco tempo fa io sono rimasto ammaliato è bellissimo dal fatto che è il continuo della fotografia molto fico ok no continua no vabbè niente siamo rimasti basiti no è bello veramente l'ho stampato bene infatti sono rimasto sono rimasto proprio contento e perché la foto quindi? allora vabbè praticamente il trip che c'è dietro è questo allora ve lo illustro vabbè insomma Invictus ok questo è il concetto no vabbè Eterna Lotta l'avete anche sentita quindi questo perché? vabbè il faro simbolo della dell'invincibilità mettiamola così no perché è stoico eroico resiste alle intemperie alle burrasche resiste il faro è lì resiste e allo stesso tempo però nel abbiamo mare cielo e neve questo perché in tutto il disco ogni volta che parlo di sentimenti o faccio riflessioni sulla mia vita su di me lo faccio utilizzando metafore che riguardano o il mare o il cielo come in Eterna Lotta no? perché in quel mare è meglio essere superficiale esatto no? tutte immagini legate al volare no? oppure ma non basta la corrente ascensionale quando si è legata una palla al piede il volare il volo il nuotare questo perché sentimenti e pensieri sono cose idealmente infinite quindi le colloco in spazi idealmente infiniti quali il mare e il cielo la neve perché l'ultima traccia del disco si chiama neve e la neve in questa traccia insomma il concetto dietro a questa traccia è se la neve fosse una metafora della vita ovvero ognuno di noi ha un fiocco di neve immaginiamo no? tutti nevechiamo fiocchi cadendo turbinano si uniscono si separano si rincrociano e ogni fiocco si deposita in un posto diverso del terreno ovvero ciò che ognuno fa della propria vita ma tutti i fiocchi sanno che prima o poi uscirà il sole e che sono destinate a sciogliersi ovvero la morte poi mia madre qua mi ha dato anche un input successivamente dicendomi se ci pensi però i fiocchi sciogliendosi diventano acqua che alimenta il terreno da vita che genera vapore acqueo che genera nuvi che da qualche parte generano neve il ciclo della vita è il ciclo della vita esatto no? quindi metaforicamente diventa anche molto più profondo volendo il mio pezzo si è fermato un po' prima la mamma ovviamente ti ha aiutato la mamma ha visto chiedi consiglio io le faccio sentire tutto ciò che faccio è una delle prime persone che sente ciò che faccio e a volte mi tira fuori anche degli spunti notevoli quindi la neve che è un elemento della terra la terra circondata dalle acque si dice dunque uno spazio finito in cui colloco metaforicamente la vita una cosa idealmente finita sì ok? in questa visione il faro assume un molteplice significato perché diventa al tempo stesso il disco stesso ovvero questo questo oggetto questa cosa collocata in questo punto in questo punto in questo momento della mia vita e mediante il quale io osservo i miei pensieri le mie emozioni e mi guardo dentro infinito insomma e poi vabbè praticamente il retro è la stessa immagine praticamente però completamente rovesciata nel senso che se qua è tutto luminoso un giorno una giornata così qua è tutto buio notte quindi se da qua è dall'entroterra esatto se qua è dall'entroterra verso l'infinito spaziale del mare del cielo di qua e dal qui sei già arrivato verso l'entroterra qui non vedi sbocchi esatto quindi è il tra luce e buio che è l'eterna lotta ibili che è il dualismo insomma questa cosa è sì c'è l'eterna lotta che è la traccia che proprio parla di questo però in realtà è una tematica che poi più o meno in tutte le tracce più introspettive ecco è una tematica che ritorna e poi il centro c'è quindi questo grigio inquadrato tipo di tre quarti che è un po' una mezza via una mediazione che è dove sei adesso forse esatto sei al centro nel giro sul pallino bianco sono il disco che gira bisogna cercarli in cassa con ciò che ci circonda però è bellissimo ha fatto così dentro no infatti è stato venuto è stato comunque continuo sì è stato è stato stampato esatto e poi poi fammi pensare se c'era qualcosa perché c'è ci sono tanti passaggi segreti che ho chiamato io che poi sì sono cose imboscate i significati nascosti però sì linea di massima ecco i concetti più o meno chiave sono poi questi sì direi proprio di sì bello perché alla fine se tu vedi vedi una copertina poi dopo la vedi meglio sai tutto quello che c'è dietro il significato che gli hai molto dare sì per la persona che lo prendi in mano che non sei te ovviamente c'è una bella immagine così poi alla fine tutto il pensiero che c'è dietro è bello intrigante no perché a me non piace fare le cose l'avevi mai spiegato pubblicamente pubblicamente in realtà no siamo i primi a diffondere ce ne ho parlato con persone sì sì vabbè adesso lo sapranno tutti youtube ha scoperto il perché il perché prima anzi verso l'infinite poi è arrivato però nel mezzo c'è tutto il resto che gira e lui è sul pallino bianco ricordiamo e devi che ruota va bene va bene dai bello complimenti posto dai chiudiamo questa questa backstage con messia e il suo puoi far finta di fumare a Sì